Se lui dice di far parte della maggioranza lo verificheremo nei prossimi consigli comunali. Nel prossimo consiglio comunale ci sarà sicuramente l'approvazione del conto consuntivo del 2023, probabilmente porteremo anche il piano industriale della BMS sul quale stiamo lavorando lacrimente. Tempo al tempo verificheremo tutti le posizioni di ognuno. Una stretta di mano che sa di tregua ma tutta da verificare. Le parole del sindaco Giuseppe Marchionna dopo le affermazioni fatte proprio ai nostri microfoni da Roberto Quarta che si è dichiarato ancora membro della maggioranza lasciano spazio alla mediazione ma danno un segnale chiaro quello dell'appuntamento del prossimo consiglio comunale e con le prossime votazioni che potranno dare una parola definitiva sul ruolo e la presenza dello stesso Quarta all'interno della maggioranza del comune di Brindisi. Io continuo a sostenere quella che è la mia opinione di sempre. Per fare parte o meno di una maggioranza bisogna approvare gli atti fondamentali della maggioranza che sono i bilanci preventivi, i bilanci consuntivi, i piani di riequilibrio e così via. Nell'ultima occasione per motivi che lui stesso ha prodotto di un leggero malessere poi superato e così via il consigliere Quarta questo non lo ha fatto provocando ovviamente alcune reazioni nei suoi colleghi di maggioranza ma se lui dice di far parte della maggioranza lo verificheremo nei prossimi consigli comunali.